Qualsiasi cosa per Palermo, cosa desidera lei per Palermo, ha la possibilità di parlare di attento al professor Orlando. Quando vuole? Vado. Buonasera sindaco Orlando, mi chiamo Giusy Landolino, ho 37 anni. Io vorrei solamente che lei aiutasse tutti questi ragazzi che sono ragazza madre, che hanno dei bambini di difficoltà come io, sono una bambina da 7 anni, e niente, io spero che lei sarà sindaco perché non lo vogliamo tutti, e niente, un bacione tantissimo. Grazie.